Abbandonare il corpo umano. Cerchio e seno. Attraverso NT. 8 febbraio 2023. Apporto a Ilaria. 52 minuti e 13 secondi. Dobbiamo tutti avere pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. Quindi questo momento di interruzione, l'intromissione di Antonello, ha avuto il suo scopo e speriamo che sia stato utile a qualcuno. Devo riprendere il discorso. Ilaria. Ilaria. Sì? Alexander. Sei in grado di sentirmi? Ilaria. Certo. Sì. Alexander. O devo venire là da te? Ilaria. No. Ti sento. Alexander. Allora. Avevo promesso di parlarti del tuo stato psichico che a volte ti induce ad assumere, diciamo, atteggiamenti insoliti per te. Vero? Ilaria. Eh. Sì. Alexander. Allora. Tu hai delle facoltà medianiche. Questo sì. Hai delle facoltà. E le facoltà sono cose insite in tutti. Però pochi riescono a farle emergere. Però ricorda. Ancora sei vittima del tuo inconscio e del tuo desiderio di produrre qualcosa che sia non sul piano materiale. Capisci? Quindi quello che voglio farti capire è che c'è molta soggettività ancora. Però le facoltà le hai. Stasera ti porterò un dono che ti farà capire. Sarà una cosa scherzosa perché tu ami le cose scherzose e che non sono seriose. Ecco. Vero? Ilaria. Sì. Alexander. Però questa piccola cosa ha un solo occhio. L'occhio veggente. Tienilo spesso quando fai quegli esercizi che ti sono stati indicati. Portalo con te. Va bene? Ora io non so se riuscirò ad avvicinarmi a te. Alexander ha qualche problema ad avanzare tra le sedie. Debora. Purtroppo non c'è la musica. Alexander. Non è un problema. L'oggetto lo devo materializzare nelle tue mani. In questo momento Alexander ha la voce di Antonello. Ma perché ti hanno messo laggiù? Giulio. La tua moglie mi crea un sacco di difficoltà. Lo sai? Non trovo la strada. Giulio mi guidi con la tua voce? Sto arrivando. Milena. No, io sono... Alexander. Io so chi sei. O che me lo devi dire tu? Milena. Pensavo che... Alexander la carezza. Grazie. Alexander. Lo so allora. Ma non sei in grado di raggiungere le mie mani. Vero? Ilaria. E non lo so. Non riesco a vederti. Alexander. Io purtroppo incorporando. Non posso avere la vista spirituale. Devo usare gli occhi dello strumento e non sempre le vibrazioni. Come vi ho detto questa sera. Ci sono tante vibrazioni negative e questo mi impedisce di avere la padronanza piena sia dell'ambiente che del corpo. Dario fa un tentativo di aiutare. Incorporare una cosa brutta, brutta, brutta. Io ancora ho imparato a usare meno il mio accento inglese che mi metteva in difficoltà. Vi ricordate agli inizi? Sto parlando più con la voce dello strumento che è più agevole da produrre invece che con la mia. Per ogni tanto mi piace riacquistare ma tu stai aspettando il dono, vero? Ilaria. Sì. Alexander. Scusami. Ti ho preso le mani poi ti ho detto di metterle a coppa. Così. Brava. Sei molto brava. Dario. Grazie. Volete che parli con accento inglese o preferite la voce? Molti. Inglese. Inglese. Alexander. Ah, va bene. All right. Perché sentire una voce diversa dal solito può aiutare anche il vostro concentramento, vero? Concentrazione. Scusate. La vostra lingua l'ho imparata facilmente ma non sempre mi è agevole usare i termini giusti. Ecco, si sta completando. Mi stanno rubando le energie. No, vi prego. Ecco, volevo produrre la luminosità ma prima o poi ci riuscirò. Il fatto è che il vostro medium, il nostro medium non ha più quell'età in cui abbondava di energie che potevamo usare. Ecco, credo sia completo. Aspetta. È così. Riesco a materializzare anche un appendice sopra. Lo troverai gradevole e curioso ma ricorda l'emblema. Un unico occhio veggente. Quando riuscirai ad aprire quello, difficoltà. Non ho più energie. Ilaria, grazie. Alexander, tu in futuro potresti essere molto utile ma devi saper controllare le tue emotività interiori. Ilaria, grazie. Alexander, il tuo desiderio di trascendere la condizione prettamente umana deve essere razionalmente controllata. Lo strumento che stiamo usando è stato agevolato da quegli esperimenti di autoipnosi che ha fatto. Quindi ecco il consiglio che ti ho dato di fare quegli esercizi. Ilaria, grazie. Alexander, sei molto cara. Deborah, Alexander, Ilaria può essere aiutata da tutti noi del gruppo prima di fare il tabellone con la concentrazione? Alexander, no, deve essere capace. Un po' è lo stesso consiglio che fu dato alla piccola Deborah davanti a uno specchio. A te Deborah, per sviluppare facoltà psichiche non medianiche. A lei, per indurre la sua mente, il suo ego, il suo io subliminale, a raggiungere quello stadio giusto per poter prestare il suo corpo all'entità. Deborah, la mia domanda era magari una volta al mese insieme a noi del gruppo in sede può esserle di aiuto? Alexander, no, non credo, anche perché il numero delle persone sarebbe di ostacolo. Rolanda, ma quell'apporto, l'occhio, può essere toccato da noi? Alexander, potete solo guardarlo, fotografarlo. A proposito, diamo un saluto a chi non è potuto intervenire e dobbiamo nostro malgrado. Sì, non può intervenire Yogananda, mi dispiace, mi dispiace, se non avessero abusato troppo delle energie che abbiamo dovuto dissipare con fenomeni luminosi, forse, ma Yogananda vi ama e vi darà la sua parabola la prossima volta, vi offrirà il suo sapere la prossima volta. Tutti, grazie. Alexander, come stai? Elio, tutto bene, grazie. Alexander, io vi ringrazio di nuovo, siete tutti molto cari e io, se vi piace il mio accento, farò di tutto per parlare continuamente con questo accento, anche se userò la voce del medium. Quello che vi devo dire è importante nel contenuto, non nella sonorità, vero? Rolanda, puoi darmi un consiglio per quel farmaco? Che devo fare? Alexander, tu cosa hai appurato? Rolanda, mi sembra che non sia tanto valido, però io non lo so, non capisco se sbaglio o no. Alexander, purtroppo dovremmo seguire un processo di studio, capisci? Come possiamo sapere se un farmaco della vostra dimensione, fornito dalla vostra medicina, è valido o no? Solo seguendo. Se ci fosse stato il cerusico avrebbe risposto senza esitazione, ma noi abbiamo dei grossi limiti, dovremmo seguirvi per un po' di tempo e stabilire Rolanda. Allora lo proviamo, va bene? Alexander, se poi venite nella nostra dimensione va bene lo stesso. Faccio come Antonello, lo spiritoso, per chiudere con un po' di ilarità. Vero Ilaria? L'ilarità aiuta. Floriana, Alexander, perdonami. Alexander, io sto andando via, si stanno esaurendo le energie, dimmi. Floriana, ma non c'è un'altra entità che, il cerusico, è insostituibile, possa avere il piacere di intervenire e di aiutarci? Alexander, no, fu un'eccezione quando visitarono lo strumento, quel medico di Paganica, ma non ci sono entità che riescono a fare quello che poteva fare il cerusico. Il cerusico deve incorporare. Ricordate quando non incorporava e usava lo strumento come un robot? Dopo è riuscito a fare il grande passo perché è difficoltosissimo. Dopo che è stato su altri mondi a vivere esperienze più utili alla sua evoluzione, è tornato nella vostra dimensione e vi ha dato dimostrazione che poteva fare molte cose. Purtroppo non sempre si è in grado di accontentarvi. Vi ringrazio. Devo lasciarvi. 64 minuti e 31 secondi. Miguel, 64 minuti e 56 secondi. Hola, compadre, se soi, Miguel. Tutti salutano. Miguel, questa, questa sala è piena di burriti, asini, ma non voi, burriti, disincarnati. Rolanda, ma non portati da noi. Alexander, no, non siamo noi, siete voi che li portate, alcuni di voi, certo non tutti. Vedete come noi usiamo lo strumento? Le corde vocali ancora vibrano. Elio, sei Alexander? Alexander, sì, sono tornato proprio per dirvi questo, spiegarvi che abbandonare il corpo umano che ci ha ospitato è altrettanto difficile che usarlo quando incorporiamo. Miguel è solo un guardiano, capite? Il suo scopo è solo quello, quindi non è quello di comunicare, lo ha fatto per tanto tempo nella sua lingua, vero? Ecco, anch'io debbo esaurire le ultime energie. Grazie. 66 minuti e 28 secondi.